Salve a tutti ben ritrovati sul mio canale, siamo sempre su Black Meat Wukong e oggi vedremo come sconfiggere agilmente il boss stella di Kang Jin che molti di voi hanno trovato difficilissimo da battere, ma in realtà la soluzione è molto più semplice di quella che crediate la boss fight è divisa in due fasi, la prima veramente semplice con la regina che si limita ad attaccarci da vicino per poi di tanto in tanto trasformarsi in un dragone che evoca fulmini, anche essi niente di complicato e la seconda un pochino più rognosa, avete ragione, perché si potenzierà, le mosse rimarranno più o meno quelle ma faranno molto molto più danno la mia tecnica, ve lo anticipo sin da subito, consiste nel non usare nessuna abilità magia, fiaschette di vita, niente durante la prima fase ed accanirci invece durante la seconda infliggendole più danni nel minor tempo possibile più la lasciamo in vita, più aumentano le possibilità che ci faccia fuori per prima cosa andiamo a vedere le abilità importanti per questa battaglia la più importante per me è compostezza, che ci permetterà di continuare la combo anche dopo aver schivato il che è veramente utile perché più riusciamo a usare attacchi che la fanno barcollare più saremo al sicuro dai suoi attacchi, perché un po' tra l'attacca queste invece sono le abilità concernenti le pose e vi consiglio di sbloccare chiaramente colpo risoluto, colpo dal cielo e soprattutto forza sciolta che ci consente di scattare mentre carichiamo l'attacco che è veramente utile in questa boss fight ma non solo, anche in tutto il gioco io non esagero usarla in questa run ma in tutto il gioco perché non voglio rovinarmi l'esperienza ma volendo lo rompete il gioco se usate sempre questa tecnica vi allontanate, caricate il colpo caricato mentre correte e lo infliggete sulla testa del boss portate al massimo versatilità e forza distruttiva useremo anche ciocca della moltitudine se volete copiate le mie abilità ma non è fondamentale la cosa fondamentale invece è il potenziamento delle trasformazioni perché ciò che ci permetterà di sconfiggerla sarà Marea Rossa che unita alla ciocca della moltitudine sopraffarrà il boss nella seconda fase potenziate al massimo anche Intramontabile che aumenta la durata della trasformazione e se avete abbastanza scintille potenza nascosta in realtà andrebbero sbloccate praticamente tutte però insomma fate quello che potete in base a quante scintille vi rimangono per quanto riguarda gli spiriti useremo Anima Errante che al quarto stadio del potenziamento ci aumenterà considerevolmente la difesa e fidatevi è fondamentale, è utilissimo, è tutto quello che potete immaginare ora passiamo all'azione questa è la prima fase, semplicissima iniziamo locandola caricando il colpo caricato mentre le giriamo intorno evitando le freccette di Yondu e appena finisce l'attacco boom ora aspettiamo che si ricarichi il vigore e stando sempre pronti a schivare la attacchiamo guardate qui quanto è utile compostezza io ho schivato ma nonostante questo posso dargli l'ultimo colpo della combo dopo pochi danni si trasformerà in un dragone e comincerà ad evocare fulmini schivarli è semplice ma non semplicissimo lavoriamo solo con la schivata aspettiamo che vengano preavvisati e poi schiviamo meglio in avanti dove abbiamo la visuale libera lo dico per i più disattenti il preavviso non fa danni non è quello che dobbiamo schivare noi dobbiamo schivare la lancia che cade subito dopo ok? passati una decina di secondi ritornerà in forma umana o comunque antropomorfa non so che cacchio è e di nuovo un bel attacco caricato sulla testa continuiamo ad attaccare e schivare non esageriamo non serve fargli tanto danno adesso e soprattutto non serve sprecare viaschette per danni stupidi presi non usate le magie ancora aspettate ok lei si alza in volo questo è l'ultimo attacco prima della seconda fase se vi fate beccare da stilumioli lasciate perdere e tornate su Among Us perché c'è qualcosa che non va ed ecco la terza fase si è trasformata adesso inizia con i fulmini usiamo la stessa strategia di prima schiviamo ed ora appena torna a terra dovremo scagliarle contro tutto quanto pure le imprecazioni se volete paralisi che ci dà il tempo di evocare la ciocca e ci trasformiamo subito in marea rossa ora l'unione della ciocca con marea rossa è potentissima vedrete che se la attaccherete continuativamente lei non riuscirà a fare quasi niente mi raccomando quando la barra è piena di marea rossa utilizziamo l'attacco finale con schivata e triangolo e continuiamo io qui l'attacco finale riesco a farlo due volte che è ottimo ma anche una sola volta va bene finita marea rossa e la ciocca della moltitudine rimarrete solo voi lei e le abilità rimanenti non fatevi prendere dal panico perché abbiamo ancora qualche freccia al nostro arco questo attacco sembra chissà che ma se schiva facile non agitatevi basta che schivate lateralmente a più non posso e finisce sempre con questa lancia scagliata verso di voi anche essa semplice da evitare l'importante è che ve lo aspettiate e che non vi facciate prendere dal panico non è che vedete questa e ve sta scagliata lancia e impazzite no aspettiamo che la stia per lanciare poi quando ci sta per colpire pum cerchio semplice dopo questo attacco sarà vulnerabile usiamo anima errante o se già lo avete utilizzato va benissimo anche l'attacco caricato al massimo poi subito dopo passo illusorio che ci rende invisibili e se come me avete osservazione celata sempre relativa a passo illusorio aspettate prima di colpirla aspettate il più possibile perché ogni secondo si accumula il bonus di probabilità di colpo critico poi boom da dietro barcolla continuiamo ad attaccarla è quasi andata non strafate un dito su quadrato per la combo ma sempre pronti a farlo scivolare sul cerchio per schivare sempre pronti io qui continuo ad attaccarla da vicino perché non è che abbia paura di questa però se voi non vi sentite sicuri vi allontanate aspettate che si ricarichi la paralisi utilizzate quella e gli infliggete gli ultimi danni che rimangono se avete ancora mano a sufficienza chiaramente e voilà sconfitto spero di esservi stato d'aiuto se avete qualche dubbio non esitate a commentare vi auguro una buona giornata se vedrete questo video di giorno una buona serata invece se lo vedrete di sera o di notte ciao grazie a tutti grazie a tutti